Vandali scatenati a Montemurlo. A pochi giorni dalla pulizia del colonnato di Piazza della Libertà, deturpato da segni e graffiti, sono già riapparse nuove scritte sui muri, mentre al Giardino della Rocca tavoli e panchine sono stati divelti e danneggiati. Un quadro avvilente che l'assessore all'ambiente Simone Calamai non esita a deprecare con forza. Sono gesti inaccettabili e vergognosi, dice. I danneggiamenti ai beni pubblici non sono bravate, sono veri e propri reati penali che perseguiremo con forza, rafforzando anche i controlli della Polizia Municipale. Alcuni giorni fa il Comune di Montemurlo aveva provveduto alla pulizia della Piazza della Libertà. Scritte, disegni, graffiti realizzati con spray e pennarelli erano stati rimossi dalle pareti posteriori del municipio, dall'entrata della Sala Banti, dal colonnato e dal palco utilizzato per le feste in piazza. Non è la prima volta che l'amministrazione provvede a questo genere di pulizia e il costo dell'intervento non è indifferente. Sono corsi ben 5.000 euro per grattare le pietre, ritinteggiare porte e cornicioni e rimuovere così le scritte dei vandali. Analogo lavoro di pulizia è stato portato a termine alla primaria Anna Franche di Oste, dove le scritte avevano imbrattato i muri perimetrali dell'edificio e perfino la targa di intitolazione della scuola. Solo pochi giorni fa il comune di Montemurla aveva sistemato anche il vialetto pedonale che si trova al giardino pubblico di Rocca, dove i vandali si divertivano a divellere i ceppi di legno di cui era fatto. Ma i nuovi danneggiamenti non si sono fatti attendere, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.